Ancora caldo per i prossimi due mesi. Secondo i ricercatori del CNR e del Consorzio Lamma, l'ultimo bimestre del 2022 continuerà ad essere caratterizzato da temperature superiori alla media, con un mese di novembre dal clima di tarda estate e dicembre ancora caldo ma con maggiori precipitazioni rispetto alla norma. Prospettive che se da un lato rallegrano chi ancora in pieno autunno si concede qualche giornata di sole e di mare sulle spiagge pugliesi, dall'altro preoccupano non poco il settore dell'agricoltura. L'allarma è stato lanciato in particolare da Coldiretti Puglia, che evidenzia come il caldo record di questi mesi e l'assenza di pioggia minino seriamente le semine di ortaggi, foraggere e grano nei terreni induriti da un 2022 anomalo. Un anno che si classifica fino ad ora come il più caldo mai registrato dal 1800, con una temperatura addirittura superiore di quasi un grado rispetto alla media storica nei primi nove mesi dell'anno. Per Coldiretti il caldo perdurante fuori stagione sta mettendo a rischio l'uva da tavola non ancora raccolta sotto i tendoni, dove le temperature raggiungono picchi troppo alti per garantirne la conservabilità. Una situazione preoccupante dopo che nel 2022 in Puglia la siccità ha causato un calo del 30% delle rese per il grano e l'avena, del 25% per i legumi, ma anche la maturazione contemporanea delle diverse varietà di frutta e ortaggi. Effetti evidenti anche sul settore olivicolo, con un calo sensibile della produzione di olive del 50% in Puglia.